Ultimi 30 secondi di gioco, 30 secondi di gioco, un mezzammonito per proteste, si soffre con il pallone in profondità, Noyer va a fare il terzino sinistro e la mette in fallo laterale, rimessa laterale, perdiamo tempo ragazzi, rimessa laterale che a noi della sportività non ce ne frega un cazzo! Mancano 14 secondi alla fine, il pallone è per Pirlo che prova a gestirla, deve tenerla lì e ancora lì indietro, De Rossi può gestirla vicino a fallo laterale, ancora per Pirlo, mancano 4 secondi alla fine, il pallone è detto per l'ottimazione della Germania la salva e poi partire c'è calcio di punizione, calcio di punizione, ultima possibilità per buttarla dentro di tedeschi! Questo coglione del portiere tedesco è il più grande portiere del mondo, peraltro decido di non buttarla dentro alla fine! Andiamo al finale! Andiamo al finale! Andiamo al finale Magno! Il finale con i Pumper! Il finale con i Pumper! Il finale con i Pumper! Che bella gente, che bella gente! Che bel vedere una partita! Vinta! Perché chi porta buono, porta buono!